Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. La famiglia di Denise Pipitone non si ferma e continua a cercarla. Anche con nuovi accertamenti come quelli eseguiti poche ore fa sul DNA di una persona al centro di una segnalazione. Di recente si è aperta una nuova pista che ha portato a una donna chiamata Antonia Cerasela, una giovane rom su cui si sono concentrati degli accertamenti. Questa mattina Piera Maggio ha annunciato sui social l'esito delle nuove analisi. Si è proceduto nelle giornate di sabato 30 aprile e lunedì 2 maggio 2022 al campionamento e alla comparazione delle sostanze biologiche prelevate alla signora Cerasela con il DNA di Piera Maggio e di Pietro Pulizzi, madre e padre di Denise Pipitone, comparazione che ha dato esito negativo. Pertanto può dirsi al di là di ogni ragionevole dubbio che la signora Cerasela non è Denise Pipitone. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.